Allora, le ferite non rimarginano, opto nuovamente per un bianco e nero che illanguidisca, ammorbidisca i nostri traumi inferiori, che c'entra tutto ciò con Marco Montemagno. È un personaggio che ho provato a seguire, in automatico riceveva anche le notifiche dalla sua pagina ufficiale, coi relativi aggiornamenti, ma non voglio più aggiornarmi con lui. Noi siamo assonnati o tenebrati, incupiti da questo covid, incipiente come la mia stempiatura evidente, ma evidentemente tutto ciò non serve a niente, tanto la gente. Tutto un magna magna generale, no? Montemagno, esperto di marketing, un marchettaro. Io lo scomunicherei, questo comunicatore. Cosa voglio comunicare? Nulla. Cosa voglio esprimere? Cosa voglio esternare? Cosa voglio dimostrare? Bisogna sempre enunciarsi. Bisogna darsi la produttività per essere decapitati e adattarsi alla normalità del reddito pro capite che non ci decollerà e dobbiamo accollarci sempre più responsabilità in questa società improntata alla velocità. Ripeto, ci stanno addormentando queste quarantene esagerate, scriteriate, oserei dire criminose e stanno scremando, spoltendo e ci stanno sfottendo, stanno impoverendo noi dentro, la popolazione e la gente. Ma non voglio sempre ammorbarvi con i miei deliri, con le mie nevralgie, le mie nevrosi, la mia posa a volte psicotica, palotica, stravagante, bizzarra, balsana, bislacca, non adatta a questo mondo di pagliacci che sanno vendere bene la propria merce, come suol dire. Non è tutt'oro quel che luccica, e si va di proverbi, di luoghi comuni. In quest'Italia, spaisata, rattristata, da sempre anestetizzata, da sempre bugiarda, ipocrita e un po' ruffiana. Ma alle 9.30 una videochiamata per allentare la tensione, per addolcire le no esistenziali di questa mia vita da viandante. è andata via, proprio, sparita, spiata dagli altri. Andiamo, così, mi si vede? Mi si vede, ecco, questa vita sbiadita, oscurata. Ah, ok, ho scritto qui sul Genius Pop, ve lo inserirò in descrizione, funziona così, no? Ho eseguito tutte le linee, fra l'altro, andate avanti col minutaggio se non vi interessa questa prefazione. Nell'incipit del mio libro, avevo già dato il visto si stampi, sono stati inviati file, sono tre, un libro, anche da me, recitato, sarà integralmente uno, interamente solo, come me, no, unico. No, nota introduttiva, ero stato così accorto, a dire loro, di rispettare esattamente l'impaginato da me allestito redatto assieme al mio redattore, ma hanno attaccato la prima riga alla nota introduttiva e quindi non hanno spaziato e mi sono spazientito, però. Allora, Marco Montemagno, quindi, dovrò aspettare, è una continua, perenne, interminabile attesa che si protrae, un continuo rimandare, un continuo sopperire alle lacune, ai rifusi nostri e siamo confusi. Allora, Marco Montemagno, comunicatore, doc, di Origini Controllate, un po' meteora, intervista del critico Paolo Mareghetti, ma entrambi non sono ferrati nelle loro materie, però forse Marco, con i soldi che guadagna una Ferrari, o forse sono banali materialisti, ok, e così, a me diedero del fancazista, sì, 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 insomma, ne viva il meteorismo, c'è la flatulenza, io non voglio accorparmi, accomunarmi alla totale vostra deficienza, sì, Montemagno non mi sta molto simpatico, ma anch'io, anch'io, qui tagliato, spesso mi guardo allo specchio, sfregiato, fregato, naufragato e dispettito da me stesso, per cui comunque nutro rispetto, allora, ora Montemagno sono uno spettro, sì, sì, sono spettabile per me stesso, ma anche spettrale, è un uomo che sta sempre più, più, ecco, poetizziamo, invertiamo, ecco, come dice Montemagno, questa critica di Tenet, Paolo l'ha scritta al contrario, all'inverso, io fui introverso, sì, sì, sempre più cifre pazzesche guadagnando, invece Luca Guadagnino, sfruttando la comunicazione SEO, sì, intanto l'appetito viene mangiando, districandosi di qua e di là, fra libri di dubbi e attendibilità, interviste di testate, sì, incontestabile, secondo me contestabilissima, validità e qualità, eppure nella sua arrampicata socio-economica senza pari, cioè in pari, forse da Hilton Paris, o solo da paradiso, lui non è un sognatore come Owen Wilson di Midnight Temporal, e poi citeremo anche The Last Tango, eppure nella sua arrampicata socio-economica, solo da paradiso, comparabile alla scalata, non alla scala, scala, sta a Milano, scalata di Renold Messner senza bombole d'ossigeno sull'Everest, prendiamo un po' fiato, stiamo asfissiando, ci stanno proprio strozzando le nostre emozioni, anestetizzando, qui dovrei, disinfettando, allora, insomma, da uomo della seggiovia, no, da prepista ascistico, no, da rivista furbamente milliflose, ne dire cinico e studiatamente ruffianissimo, Montemagno assomiglia a colui che azzeccò la schedina vincente nel film Al Bar dello Sport di Sergio Martino, valla a dire Banvilino, raggiungendo il Monte Premi, salendo sulla mole andoneliene, da lì non ribattezzata, mole di Andonello, decantando le vette alpine che da lassù in quel di Torino si possono ammirare all'orizzonte, vicino al confine, oh, noi siamo stati qui confinati, in una zona di confino, o no, in casa, ecco, seppiliti, vivi, ovvero il Monte Rosso e il Monte Bianco, e forse festeggendo la sua vincita miliardaria da super fortunato con un barattolo gigantesco di Nutella da Bianca di Moretti Nanni, oppure mangiando la torta intera, anzi, il delicatissimo dessert, Mont Blanc, la nostra vita è desertica, e quell'altro, mamma mia che lagna, è patetico, è una nena, è un'omelia, è una nana, nina nanna, nigramaro, mamma mia, è tutta una pochade, ma lei signore conosce Paul Schrader? Eh sì, sì, l'italiano medio viene spento nei suoi impulsi vitali, viene raffredato, è raffredato perché non può uscire, perché sennò è appunto viene ammalato, contagiato, e accetta in maniera conformistica, no, le regole a lui impartite, e col cervello finge di essere partito, ma domani diranno, oh, il mattino quando è bello, e sì, l'italiano poi gioisce, ah, è finito l'incubo, oh, godiamo, scopriamo, trombiamo, balliamo, cantiamo, l'italiano medio e melodramatico, malingonia, poi euforia, e vai, e il tempo, ogni trauma, è ferita, asciuga, e porta via, e porta via, e il cielo è sempre più blu, oh, oh, allora, allora, The Sermon Blanc, sì, Marco magna il suo dolce senza volerlo ripartire a fette, uomo non nazista gerarcha, il Marco, bensì, macatonio, no, no, magna, magna, però è sempre più megro, allora, bensì scalatore della dura piramide gerarchica, uomo emancipato, oramai quasi arrapato, ah, lupato, no, d'altopiano più abito, no, un alto locato, forse avanti di sua moglie, non so se bella come Laura Morante, o, a proposito di Ferrari, Isabella, o premio Nobel come Elsa, Elsa Morante, oh, oh, oppure graziato dalla divinizazione di se stesso, che in maniera capiziosamente affettata, leggermente affrettata, sta ottenendo soldi e patate, no, appalate, grazie alla sua veloce, persuasiva, stai scaltra, parlantina da volpino, dal pelo candido e pulitino, oh, Stefanino, uomo sfumeggiante, light e piumato, non sono foro e sgarp, brinda di grandi spumanti, celebra anche Tom Hanks, il suo fuffande, tra virgolette, essere, o il suo essere birbende, scafato malandrino, uomo navigato il mondo emegno, che lecca tutti, a mo' di gelato magnum, e lecca, sommariamente, miei sommari, insomma, riassumendo, senza indessa la brillantina, ma anche lui fa le polemiche su Gris, in quanto Marco è sul pelato stempiato quasi attempato, sì, vicino alla pasciuta, e finanziariamente parlando, cinquantina, da emigrato, non a Lino Pugliese, in Piemonte, ma a Londra, Londra, in Giltere, insomma, dove poche volte, probabilmente, mangia la pasta asciutta, se famo tu spaghi, no, no, e lui è, lui è magivato, lui è emigrato, lui, eh, sì, 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 Montemagno scappa, no, stappa uno spumantino, è salito in cima, non al K2, bensì sulla sommità di esagerate pecuniarie somme, somme, come se la cava da tutt'olgo affamato di scibile, obiettivamente, insomma, insomma, ecco, spostiamo qui l'obiettivo, allora, dobbiamo essere obiettivi, allora, dopo aver intervistato Insegno Pino, eh sì, che Pino, il doppiaggio insegna, è un uomo insigne, ma non era il calciatore insigne, ah no, Pino insegna il doppiaggio, a chi, a Insigne, che con le modelle fa le doppiette, ah, allora, quello fa anche le triplette, comunque, e Stefano accorsi al suo capezzale, Paolo Merighetti ha corso, ma tutti e due, a mio avviso, necessiterebbero del soccorso, perlomeno di una controllatina da una croce rossina, quello lì ci vuole la camomina, un po' di camina, eh, loro succhiano un tiramisù da antica gelateria del corso, no, sa ruffiano la gente che rispettivamente dalle labbra pende, insomma, com'è questo libro, lavorebile, è del dizionario dei Fib, scritto dal critico, dei critici, ma di lui no, però, del Corriere della Sera, il Merighetti, chi se no, se no, avete senno? Oh, assennati, oh, dobbiamo ragionare, essere ponderati, non disseniamo in questo momento, ok? Ok, 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 celeberimo opinionista cinematografico, che è un privilegiato editoriale sul più culturalmente celebreto quotidiano nazionale succitato, eh, lì no, con Edvice Recker, sempre sovrecitato, sovrecitato, scrivendo spesso impagabili, assai pagate, stronzete, dicasi altresì, recensioni sciatte, svergognate, impudiche e spietate, Marco Montemagno di cinema ne capisce quando una ragazzina di 18 anni di Instagram che va a sfoggiare dei suoi brufoli curati dal Topexan, eh, il Topexan servirebbe la penicilina cicatrina, no? Suo addome è perfettamente piatto, palestrato e gambe depilate in virtù di, 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 del suo pelato, no, di strepitosi pelato, 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 ecco, mostrandola, no, esibendo la sua tartarughina comprata allo zoo di quell'animale del suo fidanzato, sinceramente un quarantene non disoccupato, neanche debosciato, non, non traviato, non depravato, però ignorante come una capra ma ricospondeto, e soprattutto il suo, su, 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 c'è entra avanti di spo, su, da vendo tutto, tutto il giorno, eh sì, nella vita ci vuole culo, miei ellati e caramellati, oh, yeah, 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 bisogna farselo per farsi il brand, come Marco oppure Love Brandy, Brandy, Brandy Love, Brandy Love la ponatrice, quella ovula sempre, infatti dice all'uomo di schizzare di maionese, prendi l'uovo, prendi l'uovo allora tanti uomini prende prendi l'uovo, ecco, bevendo poi felici e contenti con l'estrafatto e pur soddisfatto è già un brandy con la Y la Y la mia insegnante greco sostiene tre e mezzo più di incoraggiamento o Martini con Colombari Martina oppure con un'altra donna, si fa per dire coglionata molte volte codesta, è stata all'università trovata oppure sempre promossa poiché raccomandata dici a maglia cazzuto, no fottuto e vai di spintarelle c'è il doppio senso di veline e di vedo non vedo dobbiamo essere trasparenti dell'ipocrisia e allora più troia di questa vita puttana e lurida Montemagno chiede a Paolo non è è un prodotto di questa società ci voleva contro questo Marco Montemagno Paolo Pasolini allora Montemagno chiede a Paolo a Mereghetti se qualche regista italiano che Mereghetti stesso disprezza si sia contro di lui scagliato Paolo sostiene che nel suo ambiente è criticato ma al contempo stimato lezioni di scienza delle comunicazioni forse un'inutile istituzione creata e patrocinata da Umberto Eco autore del nome della Rose il suo unico capolavoro c'è un trombone è un film di sapientore cos'è quel libro il Pendulum for Call Paolo non disprezzi in vero alcun regista se gli valuta di esercizi personali non so non so secondo la fine ecco qui devo affinare il testo della fine è Meneutri con il film da lui visto compreso di Mule ma comunque è andato con qualche Mule cioè allora non solo per il Corriere ma al calare della sera e forse al colare dopo la sega spesso lui Stronga Stronga dice che si fa tante segmentare no ma non solo quello allora spesso lui Stronga in forma apodittica prioristica diciamo prevenuta e stannutiscono no stannutano no allora no abbiamo allora scusate 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 abbiamo troppo acelerato allora Paolo non disprezzi in vero alcun regista si gli valuta di esercizi personali non so se con della fine ermeneutica ogni fine da lui visto compreso di Mule non solo per il Corriere ma al calare della sera spesso lui Stronga in forma apodittica prioristica diciamo prevenuta e qualche volta ballistica ballistica se ne frega se i registi se i registi girano le balle appunto contro il quale lui si accanisce in faccia gli stannutiscono no stannutano si può dire in drammi modi no in questo mondo no sputano non apprezzo il suo metodo di giudizio in effetti se vogliamo essere dei puristi della lingua come appena detto e quando da merighetti all'amante bilingue allora Paolo nessuno disprezza diciamo che non molti apprezza i costi dei suoi aggiornamenti dizionaristici hanno elevatissimi prezzi poiché Paolo vuole essere ottimamente retribuito in quanto autodefinitosi il critico più lette amate il più elevato si si ma lette no lì non è un grande amatore però è amante diciamo cinefilo inca inca allito dal canto suo a Mondevagno non gli è da meno eh si non pretende a differenza di Netflix che gli iscritti al suo canale YouTube paghino una quota mensile altresì viene cospicuamente remunerato dagli annunci pubblicitari pallossi un tantissimo ogni due minuti che disturbano interrompono la visita che palla la visione dei suoi filmati ottenenti migliaia di visualizzazioni a mo' di pausa ristoratrice adesso sono in pausa il ristoratore però allora fra il primo tempo e il secondo poi ci possono essere anche i supplementari ci sono gli straordinari si guadagna di più vero Marco allora Paolo Mereghetti ha segnato voti mediocre a tutti i film di Scorsese con Di Capra eppure afferma che grazie a Scorsese se il bel Leo è si è arrivato dove? è arrivato è venuto presto però questo è arrivato dove? con mille donne Paolo conosce bene la la bavetta non la gavetta e i ferri del mestiere infatti non si ricorda il nome dell'attore premio Oscar per il Ponte delle Spie ovvero Mark Rollins poi tardivamente gli sovviene ma non lo perdoniamo quanto dava a quel film? evil tardivo ma non lo perdoniamo e presto sarà citato in aula di tribunale lì non sarà molto eccitato che poi Paolo si eccita dal giudice Frank Langele del processo ai Chicago 7 da lui comunque chiamata anche qui sbaglia Paolo processo dei Chicago il quale? Chicago Bulls allora non voglio essere bullo contro di lei Paolo però mi sembra un buon rindroneto un buon ringoglionito un buon vecchieto allora sarà assolto da ogni accuso da ogni refuso e l'apsus freudiano se reciterà Rosario avrà il coraggio di ammettere che è troppo precipitoso nei suoi verdetti ma i finali quanto dà al verdetto finale? quei film lì di Signe e Loubette vedete per colpa della Mette allora alzando a tiramento tiramento di cu 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 le stellette in base a ciò che è più poi ci sono le stelline le star di Hollywood o no ecco e gli altri invece col brodo star bevono il brodino e qua è tutta una brodaglia questi si imbrodano proprio alzando a tiramento le stellette in base a ciò che è più col passato del tempo risulta risulta accattavante conveniente in base comunque il dato lì il dato è tutto un gioco di date la vita quanto viene lì alla copp? è la pumarola? a copp? no alla conad allora 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 in base a ciò che più col passato del tempo risulta accattavante in base a ciò che maggiormente lo aggrada gli sarà tolto un grado deve essere messo a 90 gradi questo inghiapetteto a Paolo di ciò non frega niente ed è come il miglior cinema dannato è un uomo dannato sì 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 non si redime ma come? quanto da confessioni la mente pericolosa Paolo allora riesce a unire a coniugare a copulare non so l'utile al direttevole ci tiene fermamente la sua dignità professionale c'è una sua tentologia è andata dall'ortodentista a l'età professionale inviolabile contemporaneamente vuole offrire ai suoi lettori un punto di vista facilmente fruibile associabile a un blockbuster divertente intrattenendo ogni utente tra virgolette con una pose così è sempre lui nel retro copertino del dizionale del merighetti no con una prosa piena di colpi di scena esilaranti esilaranti andiamo avanti ecco andiamo avanti ho perso il pazzo che sono io ma il pezzo dov'è? oddio oddio quanto sono grezzo e poi sì sì quanto avviene allora allora l'immunità di grezzo capisco allora tutto 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 una prosa piena di colpi di scena esilaranti mescolata non i colpi di scena altrimenti sarebbe mescolata vedete come sono puntigliosi certo sì no allora mescolata ad osservazioni pungenti taglienti e polemica la maniera di Ken Loach della settima arte impegnata Paolo L. Kubrick di Shining è un perfezionista come me sì sì il suo dizionario è arte pura ma comunque lì fra un film e l'altro un filmetto merighetti anche arte puro allora è arte pura che ha passione lui piace Gabriele Pession che lì tutta la passion altro che quel film di eh Meg Gibson e al contempo fa godibilmente paura con la piccolissima differenza che più che paura fa pena quando Paolo si lascia andare a triviare le battutine sulle donnine a mo' di Ezio Greggio del silenzio dei prosciutti in quanto Paolo dinanzi a ogni attrice che scoscia non riesce a resistere a tentazione di lodarne le forme estetiche però qui è poco etico assai graziose e burrose Paolo adora per esempio il delizioso culo di Giovanna Pacula è ovvio e asserisce duramente che la villa del venerdì dove lui non è stato perché il venerdì è della Repubblica del Corriere della Serie quindi lui la sera prima era impegnato allora dicevo però da lei non è stato impegnato ah 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 basta allora basta con le puttanate allora allora Paolo adora per esempio il delizioso culo di Giovanna Pacula quando dà qualcuno volò sul nido cucu e aderisce no lì non è e aderisce duramente che in sandali valga la visione solo per Erika Andersson con la k k di k k k cazzo è un rafforzativo Erika Andersson perché in tale pellicola inguardabile è sudaticcia Erika indubbiamente è un inaudito figona ce la dia no ce la vogliamo dire è tutta uomini e donne fa cagare il cazzo De Filippi ancora questi programmini qui allora uomini e donne alle prossime elezioni no alle prossime elezioni votate il falò votato 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 il più severo povero Cristo oh disgraziato poveretto no intransigente di intergerimo critico di cinema del monte del monte l'uomo del monte che è merighetti perché lui l'uomo del monte ha detto sì 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 questo film intransigente di intergerimo critico di cinema del mondo soprattutto di sé stesso di me stesso infatti a forza di fare autocritica è un uomo che è riuscito a essere bello e maledetto come Marlon Brando di Ultimo Tag a Parigi conservando che poi questo merighetti apprezza comunque vedete non apprezzo lui cioè io apprezzo non apprezzo merighetti ma io apprezzo quando merighetti apprezza anche Ultimo Tag a Zagarol sì sì perché lì conservando orgogliosamente le sue origini e il suo onore da Sofia Loren della Giocere insomma il falò un soprammobile no un sopraffino critico perfino più bravo di Francesca Lò oi boh adesso andiamo a consultare il boh che dopo questa quarantena dobbiamo occuparci no no noi ci vogliamo disoccupare di noi stessi noi vogliamo godere contemplare recensire giudicare sì sì io sono il critico di me io mi critico ogni mattina sì sì critico voi anzi voi proprio ecco alla maniera di merighetti pallino vuoto proprio è inutile rivalutarvi tanto siete proprio così non ci arrivate quando uno nasce operazione tont cioè dicevo che non è bon cioè non è bom allora nasce tont non può morire quadrato quindi merighetti è stato subito inquadrato dice che non voleva fare il registro lo sceneggiatore poi che cazzo dici merighetti cita sempre i soliti ignoti no i soliti comunque gli piace quattro stelle no i soliti noti chistambele sì beh è bello è trasformista come denier denier e mary streep e pacin e marlon brand che è palma veramente è stato il più grande atto ma secondo me sì vabbè qualche interpretazione trovo quattro marlon brand ma poi diciamo poi ci deve ci deve col vino ebbè ha avuto comunque tanti sofferto tanti patimenti la morte del figlio droghetto la sua reputazione è stata un po' sputtanetta di marlon brand e allora diciamo marlon brand beveva appunto il brand poi dicevo ha fatto l'amore con tante donne come love brand insomma lì brand sulla brand e poi proprio si è svaccato completamente ma niente mondemagna non capisce secondo me un cazzo né di scienze della discomunicazione né di cinema né di fighe né di teatro né di giornalismo insomma io critico mondemagna mondemagna se fosse per me lei non manierebbe proprio nulla nulla neanche la nutella come direbbe meridione lei non mangerebbe proprio nude nude che significa nulla ecco lei deve rimanere un uomo nude e crude vuol prosciutto cotto ma lei è bollito da te ma di mio si fa quel che si può vediamo un po' stasera ci spareremo un altro filetto no un filmetto ma di mio tutti mi criticano ma ragazzi è piaciuto così così il joker ma non è male non è male no no insomma la mia vita è stata proprio una tragedia proprio diciamo una commedia proprio una farsa ecco sì sì una sì sì proprio un scenare diciamo la follia degli altri che a Dusser perché arrivano a giudizi facili appunto come reghetti e dovrebbero revisionare e guardare le cose e i film che si fanno si spera dei film sugli altri diciamo sono dei poveri babbaccio insomma l'umanità è piena di coglioni io mi salvo sapete perché perché proprio mi sono estraneato io sono Bob De Niro da Taxi Driver ho il neo la Bob De Niro e anche la ferita si tante ferite tante ferite come Bob De Niro il Michael il cacciatore quindi non cacciatemi più non scacciatemi perché altrimenti io ne caccerò di botte io Bob Botte io non vado a botte insomma l'Italia è un paese di puttane di zocco di bagasce di baldracche di donnace insomma nomen omen fa l'ottica essere stravagante fantastica indiavolata inverocita arrabbiata adirata rinnegata ripudiata immaginata picchiata stuprata violentata ungulata sadomazzata ma insomma sono un genius nato nella mia scienza di fusa quindi voi state lì perché ragazzi che studi si deve prendere la laurea la laurea a voi serve voi vi dovete fare il culo io non ho bisogno io sono ascetico